Oggi è una giornata adatta alle tue caratteristiche, come ti senti e sarai il tuo leader? Siamo una squadra d'attacco anche oggi, ci ho provato nella scorsa tappa, notavo un posto che dà un po' morale. Ieri è stata una tappa incredibile, più di 4.000 metri di livello, infatti è un ritmo fossennato. Ma che dire, proviamo, ci proviamo anche oggi come tutti i giorni e vediamo cosa esce. Ti piace come si sta muovendo un po' questa corsa, insomma continua attacchi e non si sta mai fermi? Sicuramente non si va mai piano, non c'è mai un momento morto della corsa, però dai, vediamo anche oggi come si mette e sicuramente con la squadra ci daremo a fare. Grazie, buca al lupo.